Walker View di Tecnobody è l'innovativo sistema di valutazione e organizzazione della prestazione della corsa della vita. Attraverso questo dispositivo noi abbiamo innumerevoli possibilità, a partire dalla possibilità di valutazione della corsa dell'atleta. Valutare la corsa dell'atleta significa capire le caratteristiche meccaniche e biomeccaniche che l'atleta esprime durante il gesto, cosa che sarebbe impossibile a occhio nudo. Attraverso la presenza di una serie di sensori posizionati sotto il nastro e posizionati su delle telecamere particolari e infrarossi, abbiamo una restituzione dell'immagine tridimensionale in virtual time con un report addirittura che può sintetizzare i principali parametri che abbiamo rilevato. È molto importante anche il feedback che contemporaneamente l'atleta riceve dal schermo al plasma che riflette specularmente la propria immagine, perché questo consente non solo una valutazione del gesto della corsa ma permette addirittura di lavorare su una riabilitazione, su una rieducazione del gesto direttamente attraverso il sistema di biofeedback offerto dal dispositivo. Questo entra poi ancora in una misura superiore di tecnologia nel momento in cui riesco a immergere lo stesso atleta in una realtà virtuale che va a renderlo più possibile nel suo gesto come se fosse all'aperto.